No, ci sono anche le tedesche, ma insomma, le tedesche non le dai a Porta Grada. Ma le catalane al giorno ci sono tante, ora abbi pazienza, hai capito? Ma se fa caro mettono dentro una union, diventa union. Fai piano, fai piano, fai piano. Comunque, questo mi ha fatto camminare sulla quarta, la finta. Bravo, questo mi ha fatto rispetto. Non mi ha mai fatto rispetto. No, non sto filmando, sto vedendo per fare delle foto dei genti. Grazie. Grazie.